Ciao ragazzi, io sono Omar Oggi ragazzi vi ho portato un nuovo gioco, Destiny 2 Mi piace un po' questo gioco di già E raga, non so se ho preso il gioco completo, forse No, forse ho preso il Devo Non so raga, e ragazzi se non la gente like Devi iscriverti al canale, accendere la campanellina E commentare questo video e mettere il like No, già sto gioco sembra un po' ro... Oh mio Dio, è un po' horror Non avevi paura Oh mio Dio, è un po' di più Ragazzi, mi sono preso un infarto Ragazzi, mi sono preso un infarto Ragazzi, mi sono preso un po' di più 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 Ok, mi sono forte Vandal, ma perché tu vi chiamate Vandal? Ragazzi ricordatevi di iscrivervi al canale, accendere la campanellina, mettere un po' di like per un nuovo episodio di minecraft o di destiny e dimmi se continui a portare questa serie, e come mi sto piacendo, vabbè dittimelo qua, vabbè dittimelo qua, vabbè Andali, schifo, che fate? Ciao amico, come stai? Tutto bene? Aiuto Oh mio Ma quanto siete? Che situazione? Ragazzi, ci fai un po' paura eh, a me eh, perché io sono una femminuccia Io qua pezzo di schifo, fatti vedere Ma tu quanto siete? Che situazione? Ragazzi, ci sono le situazioni Ragazzi, ci sono le situazioni Ragazzi, non ci sono le situazioni Ragazzi, non ci sono le situazioni Ragazzi Sì, è vero! ragazzi scusatevi al canale, c'è stata campagna indina, condividete il video con tutti i vostri amici ditemi se volete, ditemi se volete carcottino questa serie, questo gioco che a me mi sta piacendo speriamo gli unici like per un nuovo episodio di minecraft, forse te lo sto portando perché mi fa cagliare, non sta più piacendo, poi e poi se stavano 10 like, però non trovo l'episodio di Erso, l'episodio 2, guardate i video ucciso, l'ho fatto l'avevano uccisi tutti, mamma mia ma che cag... ma qua come fa? ah lo ho postato di qua oh però ho un moto di... ma che cag... porto simon soffigo oh che cag... ah la città non mi aiuta, ah ok cag... mangia, che cag... non ti guarda ah non... chi ma sembra ma sai ma sai ma sai ma sai non ma sai ma sai ma sai a ma sai mi ... 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 Ragazzi, ricordatevi di accendere la campanellina, iscrivervi al canale, di superare i 10 like per portare ancora questa sedia, che non è qualcosa, e di dimmi se è andato in un altro episodio di Minecraft, se superiamo gli unici like, ragazzi, guardate il video, sono morto, ferma, fuori! Muori! 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 Ok, grande! No! Ok, ho uccisi tutti! No, scherziamo che ho ancora uno! Madonna, sono quasi uccisi! Spero che il video sia piaciuto, lasciate like, commentate, spero che questo gioco vi piace, e spero che vi piace il video, mettete like, iscrivetevi al canale, accettate la campanellina, mettete like a questo video, condividete il video con tutti i vostri amici, e ci vediamo in un prossimo video! Ciao ragazzi!